www.marizopoli.it, un piccolo video come siamo soliti fare, conoscere per decidere. Da domani fino a mercoledì, salvo chiusura anticipata, è disponibile il BTP valore che dura per tutte le famiglie, i privati che possono acquistarlo, questo BTP valore, dura 4 anni, le prime due cedole sono dal 3,25, ha pubblicato il tesoro, per i secondi due anni, le secondi due cedole è il 4%. C'è un premio dello 0,50% che tiene l'investimento per tutti i 4 anni, come per tutti i buoni polennali del tesoro è esente dai posti di successione e sconta una tassazione del 12,5%. Quindi questi sono i parametri dell'investimento che va da domani, lunedì 5, al 9, a venerdì 9, salvo chiusura anticipata, come dicevo. Come diciamo sempre, non tutte le uova nello stesso paniere, educazione finanziaria, conoscere per decidere, non metto tutto il mio denaro in un unico investimento, l'unico consiglio è che posso dire. È giusto o sbagliato è un buon investimento? Come dico, è soggettivo e sono sempre solito dire, dipende, dipende dalle proprie situazioni, dei propri investimenti. Questi sono i dati essenziali e come dico sempre, ribadisco ancora fino allo sfinimento, conoscere per decidere e non mettere le uova tutte nello stesso paniere. Alla prossima!